ok buongiorno a tutti è passato qualche giorno dalle colazioni nel hotel quarantena siamo arrivati a casa io e mia moglie Ellie saluta Ellie ok dove stiamo andando oggi oggi stiamo andando a quello che è un megawall supermercato molto importante qui a Manila e devo prendermi alcune cose un paio di ciabatte la sim card a vedere un attimino come se ci serve dell'altro per continuare allora siamo entrati in questa cosa guardate rega è gigantesco è gigantesco e ovviamente c'è un enorme settore all'entrata dedicato alle cose natalizie perché perché Natale nelle Filippine inizia a settembre è molto sentito un paese cattolico come vi ho già detto per cui ovviamente giusto a posto Natale e tecnologia questo ovviamente è tutto importato dalla Cina o dalla Corea penso le Filippine per ora non hanno ancora un'industria tecnologica tanto sviluppata e poi niente ci sono quintali di settori con qualsiasi cosa che puoi immaginare il padre di mia moglie mi ha detto che è l'equivalente filippino del Cosco che ovviamente chi è stato in America lo sa per chi come me non è stato in America ancora però per avere un'idea è un enorme supermercato diciamo catena di distribuzione con forniture di tutti i tipi per cui ecco questo è l'ordine di grandezza ovviamente qua a Manila è tutto estremamente grande e tutto estremamente organizzato anche da certi punti di vista ovviamente non è esattamente un paese del terzo mondo come ci si immagina anzi qui abbiamo oh panettone ah ecco vedete ci sono ci sono anche cose di importazione di panettoni però sono vicini no a biscotti a sesamo giapponesi questo è anche una cosa molto bella di questo paese paese asiatico perché ovviamente si hanno questo tipo di questo tipo di cose ma allo stesso tempo no si trovano comunque cose che matchano ecco con il gusto europeo e carrello di dimensioni spropositate e a me sembra onestamente un enorme commercial in grosso o qualcosa del genere in lotti di cose c'è anche da dire una cosa qui va molto perché nelle Filippine fa caldo la gente tendenzialmente non esce se non è necessario perché c'è traffico e dunque compra in grandi quantità le cose un po' lo stesso motivo per cui in America tutto è più grande no? che poi magnano lo sappiamo tutti però è nato per quello il fatto di avere grande vendere prodotti in grandi quantità la vedete il Ferrero Rocher? ma questi c'erano anche in Cina eh baci assieme altre cose per chi non se lo ricordasse questa roba le banana chips sono un qualcosa che qua va tantissimo le ho portate a casa la prima volta che sono tornato dalle Filippine e hanno fatto un sacco di successo e qui siamo nella nel settore schifezze questo ragazzi è l'oro questo ragazzi è l'oro questo ragazzi è l'oro non si trova da me e cosa ho ricevuto? il mio patettino fritte preferito e? e questo è... e questo è... come è questo? di Corea ah... sì 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 poi l'immancabile all'italiana penne e straws venti e white beans bang questo è tipo il trend di tiktok no? della pasta della pasta che poi friggono e sopra eccetera beh qua la vendono anche in pacchetto mamma mia cos'è questo? spiega I don't know spicy crab granchio piccante non so non l'ho mai provato cioè praticamente la cosa del granchio piccante e poi tipo fritta i filipini guadagnano qualcosa il punto è che non guadagnano abbastanza per avere sempre cibo diciamo di qualità ora adesso io e mia moglie le stiamo prendendo un po' di schifezze ma non dovremmo avere di questi di questi problemi però è uno dei problemi più comuni dei paesi di sviluppo cioè che la gente non è che muore di fame però quello che si può permettere sono spesso cibo spazzatura no? è un problema che c'è in realtà cioè abbastanza comune fuori dall'Europa e anche in America cioè chi guadagna poco compra schifezze perché il cibo di qualità cioè tipo ad esempio il nostro costa tanto e infatti si vedono i dati in realtà c'è molta obesità nelle Filippine per due motivi uno è perché la gente qua cammina poco prende sempre il tricycle oppure la macchina per andare in giro perché fa caldo è anche un po' come status symbol probabilmente cioè comunque è difficile immaginarsi andare in giro in bici a Manila e un altro motivo è proprio questo cioè che non guadagnano abbastanza per che so la frutta fresca o comunque prodotti che per noi invece sono quotidiani cioè lo stesso pane diventa difficile e dunque si sta vedendo un problema di obesità anche qua e questa è una cosa molto interessante perché anche proprio la loro cultura culinaria è basata sul dolce, sul fritto per rimanere in tema questo è l'enorme settore degli scatolati ecco mia moglie è contenta perché finalmente vedete che roba non so che questo può fare in ordine 25% meno sodio guarda molto sana sì questa perché ha less sodio ecco 25% less sodio cioè praticamente non è che non ha sodio ne ha meno perché così le arterie ti si ostruiscono anche questo meno calorie ovviamente sapete già la storia dello spam si chiama spam anche quella della posta elettronica perché avevano fatto questa enorme mail in campaign la gente si trovava ecco queste sono salsicce cinesi ma queste sono già un po' più sane sembrano già un po' più sane poi ci sono le viena sausage vediamo viena sausage sono i nostri view style fondamentalmente però qua lo vendono vedi in queste confezioni da vedete da 18 lattine perché appunto cosa c'è di meglio di una colazione con salsicce di vienna e poi poi altra roba questa che roba è tuna ah praticamente è pasta col tonno sì no pazzesca questa è praticamente pasta col tonno in scatola beh ce l'abbiamo anche noi no però non so se esattamente come quella di rio mare sardine queste sono carine sardine in salsa a comodoro questa è una cosa molto filippina c'è questo brand non so del monte quality non penso sia fatto in Italia ma io sì no ma nila filippini poi qua invece c'è cos'è questo? queste sono sardine sempre i filippini vanno nomati per le sardine guardate il rapporto di mia moglie con la salute ok però la lasciamo fare deve lavorare oggi pomeriggio e lei se non ha le chips non produce se non produce non mangia altre chips vero? sì allora qua intanto il mio carrello di roba si sta riempendo cos'è questo? è roba giapponese ecco la cosa figa la cosa molto bella di questi posti è che si trova molta roba giapponese e coreana perché non si trova roba cinesi in realtà cioè poca comunque non esportano dalla Cina qui non importano dalla Cina qui alimentari perché il gusto è abbastanza diverso cioè in generale e poi perché comunque le filippine sono affiliate molto di più ai brand occidentali soprattutto per quanto riguarda diciamo le cose di uso quotidiano poi l'hardware e l'infrastruttura eccetera eccetera è estremamente sinodipendente e sì io vi do un po' di di insights su come funzionano le cose qua attraverso i prodotti che sto vedendo però quello che vedo sì è un paese che comunque è più legato all'occidente dal punto di vista proprio della dei gusti e un po' anche della cultura ecco per cui insomma vedete il Nesquik e quant'altro connesso nella globalizzazione come non mai cioè loro vogliono i soldi dei cinesi ma se potessero sarebbero americani o quello che è e ma anche orgogliosamente filippini da tanti punti di vista devo dire questo non so se è arrivato già da noi perché Starbucks sta prendendo un po' di piede qua va tantissimo vedete anche loro Starbucks sta facendo sto merchandise oh espresso italiano la vaz pazzesco cioè vedete vedete è una fan vedete vendono l'espresso italiano allora questo cos'è vedete vedete è un chilo praticamente la polvere quella che noi diciamo usiamo quella che si vende sotto vuoto e qui la vendono in pacchi così e io penso ma non sono sicuro ma ve lo spiegherete anche voi se lo sapete che sia perché il format beh che siamo praticamente SNR che fa diciamo tutto in format gigante però è anche proprio come il caffè viene venduto qua cioè vedete è tutto uguale e dunque probabilmente la lavata giustamente per adattarlo al gusto filippino l'ha fatto così l'ha fatto lo stesso packaging poi qui abbiamo ecco questo ad esempio no questo è giapponese ancora è caffè giapponese ma dai caffè giapponese ragazzi caffè giapponese suona tutto molto come sollevante perché quando si parla di roba figa no olio vegetale perché qua si frigge tutto quanto olive oil boom roba organic non organic taniche di olio d'oliva adesso adesso mi dicono anche questa è la bandiera italiana c'è la bandiera italiana la bandiera quella è una tanica di olio però non è olivo oil no è olivo oil è il brand di SNR c'è olio per friggere in questa quantità e questo è per uso domestico domestico pazzesco tornando a questo extra virgin dovevo capire romuli non riesco a vedere se è fatto in Italia o no ma c'è la bandierina probabilmente si 999 pesos ma costa parecchio 999 pesos sono circa 30 euro qualcosa così circa 30 euro e poi volevo farvi vedere qua questo è pazzesco ragazzi questo è pazzesco è pieno di salsa questo è proprio america pura è pieno di salsa di tutti i tipi vedete il ketchup vedete il ketchup il ketchup il ketchup il ketchup ciao tu io tu io anche aceto bianco per mangiare non per pulire vedete yellow mustard qua cioè devo dire io lo so che fanno male queste cose però vederle anche solo così ti dà proprio l'idea che c'è come consumano i pickles i giganteschi ah li avete punglesi guardate roba pickles giganteschi tabasco si si poi qui si va avanti con delle cose forse e queste sono già quelle asiatiche golden curry curry sauce cos'è abc? sweet sauce però la vedo dappertutto questa abc cos'è? questo aroma costa 20 euro qui sono 3 euro ed è più grande e qua cosa abbiamo? eat good fat certo e questo sarebbe ancient organic boh ancient organic ghee 100% organic ghee good fat ci crediamo ci crediamo assolutamente olio di avocado crisco vegeto boh si insomma un po' di cosa ecco ecco invece questo questo mi interessa molto di più di tante di tante salse maionese pickled mango cioè mango sott'aceto e no beh ragazzi cioè questo non lo sparo voi dovete capire che insomma il mango per me è uno stile di vita qua il mango è uno stile di vita ecco tiè assieme alla spam poi volevo provarla perché la ranch che gli americani ne parlano un sacco da noi insomma non l'ho ancora mai provata e mi sembra carina e non esattamente grassa per cui ci sta siamo al banco frutta e non è tantissimo eh cioè meglio noi secondo me ne abbiamo molta di più però comunque banane vedete sono piccole sono piccoline e qui vanno tantissimo questo c'hanno solo questo poi cocomeri oggi ne abbiamo quanto ne abbiamo 29 novembre questo è giusto per farvi un'idea insomma poi gli immancabili papaye che cosa buone meloni come se piovesse papaye non so che cavolo fossero quello ah no fermi vi ho detto una schifezza watermelon watermelon queste sono angurie gialle no vabbè no vabbè no vabbè pazzesco angurie gialle non le avevo mai viste davvero qui invece abbiamo meloni e ecco queste sono le papaye papaye so che queste a mio padre piacerebbe un salvo e poi ovviamente gli immancabili manchi che costano una fava rispetto a quanto costano da noi perché sono fondamentalmente bilocali cioè di 249 pesos sono sono tipo attorno a 4-5 euro al chilo ma anche sono 4-5 euro al chilo qua che penso sia veramente poco rispetto a quanto si trovano da noi poi il tamarindo per gli appassionati io non ho mai provato il tamarindo però penso che per gli appassionati sia something poi questo non so che cosa sia viva fruits fumelo fresh fate di vario tipo questo sweet potato big queste sono le loro patate americane sweet potatoes però sono diverse dalle nostre e zenzero qua lo zenzero va tantissimo è un ingrediente per tantissimi piatti per questo che lo fanno diciamo lo vendono a così insomma in quantità e lo espongono anche tra gli i vegetali più più comuni poi questo è un yakun che non ho idea di che cosa sia lo proverò lo yakun sta roba qui non sembra tanto invitante però penso sia comunque una forma di tubero squash squash butternut sta roba qui ah ok e poi le zucche ah squash penso che sia questo questo attrezzo qua le zucche schiacciate poi le arance che sono questo banchetto ah perché te lo fanno vedi te lo fanno automaticamente cioè te lo fanno sul momento il succo d'arancia che vuoi chiedendoglielo te lo fanno mia moglie mi sta chiamando ok cosa vuole seguiamola cosa ha trovato cosa ha trovato ma che ho? cos'è? oh mio dio è un maiale intero è un maiale intero è un maiale era un porchetto intero vabbè questo non lo volevo vedere un porchetto intero sul gelato li cambiano la giornata questi cambiano la giornata a me questi sono australian marlin beef che bello si hai già visto questo è il papà di mia moglie ride perché i miei occhi occidentali sono cioccati da da quello è ovviamente l'immancabile riso vedete? vedete lo mettono sotto qua il riso si compra in pacchi da 10 kg o non si compra infatti questi sono tutti i pacchi di riso ma questo in realtà se andate nei supermercati asiatici anche da noi lo trovate eh cioè trovate che vendono questo riso qui bello impacchettato perché è immancabile come andare a prendere il pane a prendere il riso cioè 10 kg qua allora partono in una settimana sono anche in 5 ma a tutti insomma e questo sapete cos'è? lo abbiamo già comprato ieri sì lo so per chi vede questa è la salsa salad dressing più buona più buona che possiate mai trovare probabilmente molti di voi l'hanno già assaggiata ai ristoranti giapponesi quando vi danno eh che so l'insalatina con il salmone l'alga e c'è quella salsa che sa di sesamo un po' smoky è questa qua è questa qua mia moglie ha chiesto al polis se può portarci nel posto dove dove c'hanno la pasta che io ve la faccio vedere e lui ovviamente ha consentito il nome della legge mi sta portando qui c'eravamo già passati mi sa oh no effettivamente no mi sa che è un settore che viene un schippato insomma c'è bang pancake mi piace sta cosa poi abbiamo tutti i noodles possibili immaginabili tutti i noodles preparati the devil of fire fried noodles piccantissimi no vabbè stir fry no vabbè super ah ecco il santa santorum in mezzo a tutto questo abbiamo quanti tutto abbiamo due letteralmente in mezzo a tutto sto enorme coso cioè questo questo piccolo scompartimento che è dedicato alla pasta un metro quadro praticamente tra l'altro questo è onnipresente questo è quattro ogni presente nel mondo dai prendi ne quattro così quando è ora ce li scassiamo tutti lì ce li scassiamo Maligayan Pasco means Merry Christmas Merry Christmas guarda guarda che Italian style è sempre lì questa del monte del monte c'è dappertutto qua ragù bianco ragù bianco classico alfredo alfredo classico alfredo ma c'è un raffreddo è grande oh guarda c'è il pepe parmigiano questo sembra già un po' più no? vedi? parmigiano cream è bruttezza ah Organic California Diced Tomatoes beh sì beh in realtà il pomodoro della California non è male eh però adesso ne approfitto per dire abbiamo in progetto di farci un orticello perché abbiamo dei semini dall'Italia e qui c'è prego prego grazie e ah vabbè giusto per per la cronaca cioè immancabile immancabile peanut butter skippy super crunch oh but it's not juice cos'è? ah è la marmellata Welch oh my god aspetta aspetta tienilo tienilo che faccio una foto per questo mio amico che era in fissa con la Welch bang 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 due foto tre via ok almond butter beh almond butter c'è burro di mandorla burro di mandorla mai visto non so se c'è da noi boh insomma ho capito qui c'è la schibitz americana e davanti qualcosina di uno strano nostro beh carino carino ah vabbè vabbè da italiano non posso che menzionare ma tanto questa si sa è il prodotto più esportato d'Italia nel mondo praticamente il brand più famoso in assoluto noi crediamo che quel food and wine and fine bla 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 si possa fare eh ma la nutella è la cosa italiana più esportata nel mondo e qui ovviamente non fa eccezione ovviamente non poteva mancare una scappatina al banco dei liquori che ovviamente qua anche qua insomma trovo tanti sapori di casa e tanta roba un po' diversa ovviamente i formati sono bang questo questo qua è una bomba cioè è davvero è davvero una bomba proprio il whisky giappo qui insomma ci sono io qui il whisky è molto molto popolare è molto molto popolare qui ho visto di là che c'è ci sono anche i liquori italiani ad esempio i campari di là di whisky costosi ecco qua questo questo è penso che chi lo importerà in Italia fa dei miliardi e questa è una bevanda leggermente alcolica frizzante praticamente è un'aranciatina c'è anche all'ananas è un'aranciatina frizzante che ha praticamente un gusto pazzesco cioè nel senso è amarognola che ti lascia quel retrogusto in bocca che ti viene voglia di berne un'altra ancora strong zero pazzesco rega pazzesco questo veramente il futuro dei drink in discoteca io l'avevo già provato in Giappone e ero rimasto veramente colpito apparentemente c'è anche qua per cui bomba insomma abbiamo finito questo giro ad SNR diciamo ecco vi ho spiegato un pochettino alcune cose su perché alla fine attraverso queste cose si capisce anche un po' di una società dei suoi prodotti delle sue cose e qua devo dire una cosa cioè lo shop culturale c'è perché comunque non è il mio paese avete visto le differenze le cose un sacco grandi eccetera eccetera però puoi anche capire insomma che è un paese molto simile per certi aspetti a quella che è la cultura americana e dunque magari per chi è interessato a viaggiare o anche a trasferirsi in un modo o nell'altro in un paese asiatico cioè le filippine soprattutto sono un buon compromesso io cercherò di promuoverle per quelle che sono cioè prese i rifetti i contraddizioni e soprattutto un posto dove gli shock culturali ci sono sicuramente però possono essere gestiti meglio che che so in Cina ma anche nel Giappone stesso e in più non è vero che non si può vivere in un modo diverso obiettivamente questo è consumismo tutto quello che volete però allo stesso tempo una cosa qui non esclude l'altra ed è questo il bello per cui potete vivere in modo diverso come potete fare una vita normale una cosa non esclude l'altra e dunque stay tuned per i prossimi video ciao